Siamo a Gabbiccio Mare con Gabriele Villa, padrone della Baia Imperiale, 25 anni fa era venuto Michele Ferra, tornavo noi, cosa è cambiato? Niente, è cambiato il modo di vivere la discoteca, probabilmente il viverla in maniera più tranquilla, più gioiosa, una volta si veniva per divertirsi e basta, molte volte oggi si viene anche purtroppo per fare del casino, e molti l'intenzione è quella di creare dei problemi agli altri, mettersi in evidenza facendo delle cose passe o demenziali per far vedere agli amici che anche loro fanno determinate cose, quello che magari possono vedere mass media, televisioni e via dicendo, allora cercano il momento di notorietà, non lo trovano in giro, magari pensano di trovarlo qui in discoteca facendo gli stupidi. Qual è stata la cosa più appassionante che in questi anni è stata più entusiasmante? Qual è quella che è meno appassionante? La più entusiasmante è stata quella di essere a contatto tutte le sere con dei giovani e perciò stando in mezzo giovani ti rende giovane anche se non altro di spirito, non dico con gli anni perché passano, la cosa più spiacevole è forse che gli anni passano.